guarda quanti giacchettiani grandi buonasera sì per favore grazie non roviniamoci la serata romani boni boni i romani fermi lì Luca di Buonaventura mi ha adesso fatto vedere una foto del 2014 una foto del 2014 esattamente anzi sì di dicembre 2014 che era esattamente un anno fa quando io ho interrotto lo sciopero della fame il secondo che ho fatto perché il primo di 123 giorni l'ho fatto nel 2012 per la stessa ragione e cioè per chiedere che ci fosse il rispetto degli impegni che erano stati assunti dalla classe politica trasversalmente di centrodestra e di centrosinistra ci tengo a dirlo perché qualcuno ha detto che io facevo lo sciopero della fame perché volevo che si facesse il mattarellum o addirittura qualcuno ha detto che io facevo lo sciopero della fame perché volevo l'introduzione delle preferenze cosa che Matteo sa perfettamente è una cosa che proprio io adoro è una cosa che penso sia la migliore cosa che sia stata fatta con questa legge elettorale la lotta non violenta non si fa mai per ottenere qualcosa per se stessi ma si fa sempre per imporre agli altri di rispettare gli impegni che hanno preso con gli altri col prossimo e io ho sempre detto che lo sciopero della fame era perché dopo che tutti hanno detto che si doveva cambiare la legge elettorale alla fine si arrivasse a cambiarla sapete perfettamente voi siete anche abbastanza diciamo addentro alle vicende sapete perfettamente che erano anni nei quali magari ci fosse stato il movimento che c'era nel video che abbiamo appena visto c'era effettivamente solo una circolare nella quale ogni tanto qualcuno si imbucava io ricordo che nella precedente legislatura di legge elettorale si discuteva nelle cantine o comunque diciamo a pranzo da qualche parte con coloro che erano gli emissari dei partiti e in Parlamento non transitava nulla e anche lì dove transitava rimaneva ferma esattamente come era accaduto fino a che io lo sciopero la fame facevo da 69 giorni fino a che a un certo punto la prima cosa che fece Renzi quando diventò segretario del Partito Democratico raccolse un suggerimento che era uno dei miei obiettivi cioè fare in modo che la legge elettorale passasse dal Senato dove era stata messa perché ovviamente i numeri erano più risicati e quindi c'era la garanzia assoluta che rimaneva lì immobile e portarla alla Camera dove invece la maggioranza era diversa prima però che questo accadesse lo dico per la memoria voi tagliatemi quando sono arrivato troppo lontano perché io sono un politico di professione quindi ho tutti i difetti anche quello di parlare senza essere in grado di contenermi nei cinque minuti io feci una battaglia perché io avevo la mia posizione e l'ho sempre mantenuta per una legge elettorale che era il ritorno al mattarellum feci una mozione io ricordo che Renzi era accusato siccome io appoggiavo la candidatura di Renzi Renzi in quel periodo che non era ancora segretario del partito non avevamo fatto ancora le primarie veniva accusato di essere cinicamente colui che spingeva Giacchetti a fare questa iniziativa per mettere in difficoltà il governo Letta sostanzialmente lo ricorderete presentammo una mozione che chiedeva il ritorno al mattarellum quella mozione alla fine fu votata oltre che dal sottoscritto dai 5 stelle e da qualche altro deputato e grazie al voto contrario del partito democratico di allora che riunì i gruppi parlamentari fece votare all'interno dei gruppi parlamentari la sua posizione contro il mattarellum e disciplinatamente tutti compresi coloro renziani che avevano sottoscritto quella mozione prendendosi anche un po' di fango perché succede sempre così ma chi fa politica deve assumersi anche la responsabilità rispetto a determinate decisioni di processi democratici all'interno della comunità di prendersi anche il fango votarono tutti contro fu bocciata la mozione sul mattarellum poi io adesso devo stare attento perché domani Verini deve fare dei giri va a frequentare altri ambienti e devo stare attento a non irritare troppo però diciamo sentire poi mentre discutevamo dell'italicum quelli che avevano archiviato il mattarellum che sostenevano che era meglio tornare al mattarellum piuttosto che fare l'italicum è stata francamente una delle cose più divertenti anzi non più divertenti che più mi hanno fatto incazzare di quelle che ho sentito in quel periodo ma non è solo questo cerco di andare rapidamente per ricostruire però è importante ricostruirlo eravamo in attesa della decisione della consulta e ogni giorno tutta la classe politica non è possibile che poi la consulta ci dia questo smacco che ci metta in questa condizione ovviamente la politica gira intorno a se stessa come accade da anni e a sbloccare la situazione almeno in parte arriva la sentenza della corte costituzionale che dichiara in parte in parte il porcellum incostituzionale come detto poi si parte la camera sono passati credo otto mesi da quando è iniziato tutto il percorso vorrei solo per tappe ricordarvelo perché anche qui tra la scarsa memoria di alcuni in buona fede e la scarsa memoria di altri in cattiva fede e la menzogna girata a vagonate su questa riforma elettorale dimentichiamo dei passaggi Matteo Renzi diventato segretario del partito democratico se non erro proprio a dicembre gennaio del 2014 manda una lettera a tutte le forze politiche nella quale indica tre strade la prima strada era il ritorno al mattarello con gli evidenti accorgimenti che erano necessari non entro nel tecnicismo la seconda strada se non erro era lo spagnolo la terza strada era quella che veniva chiamata la legge dei sindaci che era sostanzialmente il doppio turno di coalizione manda una lettera dicendo queste sono le tre ipotesi principali vogliamo fare la legge elettorale vogliamo farla in modo largo fateci sapere alle altre forze politiche che cosa ne pensate i 5 stelle che avevano votato il mattarello ovviamente strumentalmente però intanto l'avevano votato prima lo mandano a quel paese dicendo che era il solito pagliaccio e cose del genere per dicendo Berlusconi dice che gli sta bene se non ricordo male ma correggimi che gli sta bene lo spagnolo Alfano chiedeva il ballottaggio l'altro sistema a un certo punto rispetto a chi ha dato un'adesione si fanno gli incontri tutti per dicendo esce fuori l'italicum che sostanzialmente è una fusione tra lo spagnolo con l'inserimento del doppio turno e veiceno parte l'iter dell'italicum l'italicum è cambiato tre volte in sei mesi è stato votato decine e decine di volte negli organi del partito democratico nei gruppi parlamentari in direzione e ha avuto un iter molto molto intenso anche se è durato solo alcuni mesi rispetto agli anni con i quali abbiamo girato a vuoto non abbiamo concluso niente negli anni precedenti ma è cambiato molto adesso non voglio entrare nel tecnicismo ma la soglia di sbarramento per ottenere il premio di maggioranza passa dalla prima proposta del 35% alla Camera viene approvata in prima lettura al 37% e al Senato esce fuori al 40% perché questo? perché nel dibattito che si dice non c'è stato nel confronto che si dice non c'è stato nella durezza dell'imposizione dell'unico uomo al comando questa è una cosa che cambia tre volte ovviamente perché è sollecitata e io penso che sia stata una cosa utile vorrei ricordarvi semplicemente che quelli che dicono che l'Italicum è uguale al Porcellum tanto per cominciare col Porcellum si vinceva con un voto di differenza cioè il premio di maggioranza veniva assegnato anche se tu prendevi un solo voto in più dell'altra lista ora dire che queste due cose sono uguali diciamo c'è una soglia del 40% se non si supera la soglia del 40% c'è la grande novità a mio avviso molto positiva che c'è il ballottaggio dice no perché però il ballottaggio allora riguarda solo due partiti ma chi ha detto io penso che non sarà così ma chi ha detto che una volta che si va al ballottaggio coloro che votavano altri partiti che non finiscono al ballottaggio non siano interessati di partecipare comunque al voto per stabilire chi sarà la coalizione che deciderà accade nei comuni sostanzialmente accade in tanti altri posti vediamo quello che sta accadendo in Francia e che accadrà nelle prossime ore in Francia non si capisce perché da noi questo dovrebbe essere uno scandalo resta il fatto che abbiamo il premio di maggioranza e poi e questo e così mi avvio anche a concludere io faccio parte di quelle persone lo rivendico che è stato nel partito democratico praticamente all'opposizione sempre che ha sempre fatto battaglie dentro il partito democratico dal finanziamento pubblico e altre occasioni e che poi però quando democraticamente gli organi del partito hanno deciso io mi sono sempre allineato ripeto come è successo per altri per prendermi anche il fango io sono andato anche a difendere in campagna elettorale delle cose che in direzione o anzi in direzione ci sono mai stato nei gruppi dicevo che erano indifendibili non è una qualità per me è la regola della politica è la regola della convivenza in una qualunque comunità democratica purtroppo non vale per tutti però lo dico perché Matteo sa e forse qualcuno di voi l'ha visto in direzione che io ritengo la mediazione alla quale sei arrivati con la minoranza interna che ha preteso l'inserimento delle preferenze in una legge che non le conteneva segnalo che nella precedente legislatura si era arrivati alla possibilità di cambiare il porcellum semplicemente con la introduzione delle preferenze era una ipotesi che veleggiava e io ricordo le interviste del segretario del partito di allora Bersani di Violante della Finocchiauti che dicono le preferenze piuttosto che le preferenze sono la fine perché giustamente adesso vi dico anche molto rapidamente perché penso che le preferenze siano si è scelto quello io ho fatto la battaglia e in direzione l'ho detto l'ho detto sui giornali l'ho detto ovunque eppure poi non è che non voto la legge elettorale perché sono state introdotte le preferenze che io ritengo essere una cosa molto negativa poi sono state fatte altre cose ma adesso non ho tempo lo stralcio della legge elettorale per la Camera anche qui il mio dissenso con Matteo è noto io penso che lui sarebbe potuto andare alle elezioni molto prima del 2018 e penso che probabilmente però mi rendo conto a me mi ha colpito perché quando parlo con i politici che contano normalmente non c'è mai questa linearità lui un giorno mi ha detto io ho detto guarda Matteo che secondo me e lui mi ha detto guarda il paese non ce la fa dimmi se dico una cosa lui mi ha detto forse ci converrebbe ma il paese non ce la fa ora io siccome ovviamente non ho una visione così strategica come lui ho detto vabbè il paese non ce la fa andando avanti diciamo il paese forse ce l'ha fatta la nostra capacità di tenuta in termini mentali però tutto sommato stiamo andando avanti la finisco semplicemente per dire che noi abbiamo conquistato una cosa che per me abbiamo compiuto una rivoluzione guardate che la legge elettorale la incapacità di cambiare la legge elettorale era la fotografia plastica di un paese immobile e di una classe dirigente che non era in grado e non aveva il coraggio di fare assolutamente nulla se non girare su se stessa facendo finta di fare in continuazione e lasciare le cose come stavano detto tra di noi anche perché quella legge elettorale ha fatto molto comodo anche a noi segnalo che i capilista bloccati una cosa vergognosa ma scusatemi ma nelle precedenti elezioni quanti hanno fatto le primarie dei candidati in lista che sono diventati quanti sono quelli che non stavano che non hanno fatto le primarie e quelli chi li ha scelti il dibattito democratico e chi l'ha scelti li ha scelti giustamente giustamente li ha scelti il segretario del partito perché è del tutto evidente che noi sappiamo tanto più se abbiamo fatto questa cazzata di introdurre le preferenze che molto probabilmente tanta gente per bene che non è corrotta o che non ha i soldi da spendere per andare a comprarsi le preferenze non ce la farà mai arrivare in Parlamento e questa mediazione che io alla fine ho votato è accettato è una cazzata che pareremo probabilmente per molto tempo però adesso ci stanno allora e ho finito si dice no ma ci stanno i capodista bloccati e allora adesso allora segnalo io me la sono portato perché è divertente è elementare ma non ve la leggo che la sentenza della corte costituzionale che ovviamente nessuno legge e di cui tutti parlano quando parla della incostituzionale del porcello chiarisce in modo inequivoco che quello che deve essere garantito all'elettore non è esprimere una preferenza ma di poter scegliere il proprio candidato chiudo con questa raffigurazione ho anche qui sciavolo schermino ma non ve lo faccio vedere voi chiudete gli occhi state nella cabina elettorale quando c'era il mattarellum voi avevate un simbolo una riga e un nome su quel simbolo su quella riga l'elettore entrava nella cabina elettorale leggeva Roberto Giacchetti e diceva già mai o non vado a votare o voto qualcun altro con l'italicum prima maniera che per me era molto meglio entrava in cabina elettorale trovava il simbolo e trovava quattro righe con quattro nomi leggevo non è do a leggere sessanta nomi erano quattro nomi bastava che uno di quei nomi non gli piacesse e diceva sapete che c'è te tutti gli altri tre il simbolo e Renzi andate a quel paese io non voto sceglieva leggeva vedeva e sceglieva vi ricordate com'era il Porcellum in Porcellum tu entravi in cabina elettorale avevi un bel simbolo le liste se andava bene stavano lungo i corridoi delle scuole che ovviamente c'era la gente che faceva la fila per andare a vedere votevate il simbolo e con circoscrizioni così grandi vi portate a casa 20, 25 28 deputati in alcuni casi e non sapevate chi erano e poi magari dopo vi dicono pure che voi avete eletto gli indagati avete portato in Parlamento gli indagati perché chi li conosceva come si fa se c'è un minimo di onestà intellettuale a sostenere che l'italicum ha lo stesso vizio del Porcellum perché c'ha i capilisti abbloccati andate a raccontare a questi delle preferenze inseriti dopo che erano quelli che volevano il mattarellum quando il mattarellum non era più possibile perché l'avano bocciato che il mattarellum aveva il collegio uninominale ma accanto e sono scordato tutti c'era un'altra bella lista bloccata che c'aveva 6, 7, 10 nomi dove tu mettevi la croce sul simbolo e ti portavi a casa che? quel gruppo di deputati che servivano a ricattare le maggioranze perché si trattava di 15-20 persone a ricattare le maggioranze a far saltare Prodi ne bastava uno Turigliatto nessuno se lo ricorda era uno c'hanno una maggioranza di uno al Senato quello la mattina si svegliava che gli giravano e finiva e la maggioranza saltava questo è quello che ha prodotto diciamo una certa cultura delle leggi elettorali allora alla luce di tutto questo io ho veramente il concluso e mi scuso se ho in modo forse appassionato anche e mi scuso con Guerini che domani avrà un compito forse un po' più difficile però vi devo dire che abbiamo conquistato una cosa immensa quasi impensabile e ve lo dice uno che ha passato 300 giorni senza mangiare perché ci credeva in questa battaglia noi siamo riusciti a ottenere che avremo una legge elettorale che consentirà di avere un vincitore e ce l'avremo un vincitore chiunque esso sia ci sarà e quel vincitore governerà per 5 anni senza alibi e dopo i 5 anni avrà la possibilità e il dovere di verificare col popolo se è operato bene oppure no cosa che in questo paese come sapete non accade da anni grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti